Passi avanti anche per la realizzazione della piscina da 50 metri in zona Torre d'Aiala. Proseguono a ritmo serrato gli incontri tecnici tra la struttura commissariale dei giochi del Mediterraneo e la comune di Taranto. Per accelerare la realizzazione delle opere in vista del grande evento sportivo del 2026, le riunioni si stanno svolgendo in un clima di positiva collaborazione. Al vertice riguardante la piscina, in una seconda fase, il centro nautico, non ha partecipato il commissario ferrarese per impegni istituzionali, presenti tra gli altri per il comune Ionico, il sindaco Rinaldo Melucci, il direttore generale Carmine Pisano, l'assessore a urbanistica e infrastrutture strategiche Mattia Giorno, che abbiamo ascoltato. Direi che l'incontro è stato piuttosto positivo, ormai dopo i primi incontri avuti anche alla presenza del sindaco e del commissario dei giochi, ormai siamo diventati operativi, stiamo entrando nel merito dei progetti con tutte le strutture, il comune, il comitato dei giochi, asset, quindi anche i soggetti che hanno ricevuto gli indirizzi per la progettazione, come nel caso del gruppo di lavoro di ingegneria per la piscina. Stiamo affinando i dettagli della fattibilità tecnico-economica, anche per la piscina comunque è stata avviata la conferenza di servizi, quindi ci sono in piedi tutte le attività istruttorie necessarie, l'obiettivo è chiudere la conferenza dei servizi, in maniera definita ovviamente il progetto di fattibilità tecnico-economica, aggiornato al nuovo codice degli appalti, perché ci sono degli aspetti tecnici complicati che le strutture tecniche e il comune devono seguire, il commissario, la struttura del comitato, e poi partire con un appalto integrato attraverso una stazione di committenza, quindi un soggetto che farà la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera già da avere bandito per la fine dell'anno.